Perché siamo nella fase di pandemia e quindi ognuno di noi si deve considerare positivo e deve essere considerato dall'altro positivo. E qui, nella struttura Le Mimuse, prima sede di una casa famiglia per pazienti psichiatrici a Materdomini di Nocera Superiore, che l'ASL effettua i tamponi. Circostanza che ha creato malumori tra alcuni residenti della zona. Ma dal distretto di Materdomini arrivano le rassicurazioni, ma anche un invito, in generale, alla popolazione a dare il proprio contributo. Noi in genere diamo l'appuntamento, almeno fino a poco tempo fa, quando c'era l'ora legale, alle 4 il pomeriggio. Poi chiaramente, come purtroppo tutti fanno, dice arriviamo un poco prima per essere i primi. E quindi, chiaramente, molte persone potevano arrivare prima che noi aprissimo... Quindi si crea il gruppo. Si crea il gruppo. E chiaramente, però, poi, quando sono arrivato io o i miei colleghi, queste persone sono state regaluite perché... Dice scusate, ma cerchiamo di creare un ordine, creare la distanza. Se vi abbiamo detto alle 4, cortesamente, venite alle 4. Non venite prima, perché prima il portone è ancora chiuso. Anche perché noi abbiamo bisogno, per fare di queste cose, di spazi, di spazi aperti. Ne stiamo cercando anche altri di spazi aperti. Stiamo cercando anche alleanze con altri enti. E uno l'abbiamo chiusa proprio col Comune di Nocera Inferiore pochi giorni fa. Utilizzeremo un suo spazio proprio per... Per altri camponi. Per altri camponi e per farsi di poterne fare quanti più possibili, per poter intercettare quante più persone possibili. Perché questa è la vittoria, è l'arma che dobbiamo avere per vincere questa guerra. Per cui la popolazione ci deve dare una mano. Ci deve dare una mano sia nei comportamenti, sia nel non avere paura. Però per non avere paura anche a loro volta devono avere comportamenti corretti. Vedono un assemblamento, non vi avvicinate. Se non vi avvicinate non c'è nessun problema e nessuna preoccupazione. Quindi ai cittadini che abitano nei paesi? Sanno assolutamente tranquilli. La proprio... Problemi non ne hanno. Non si può diffondere a distanza, a quella distanza assolutamente. Non c'è che le persone in generale non devono stare tranquilli. Siamo in una guerra. Siamo in un ambiente dove ci sono pallottole vaganti. Il virus noi lo dobbiamo immaginare come una pallottola vagante, che non sappiamo dov'è. Non sappiamo da dove arriva, non fa rumore. E quindi da queste pallotte ci dobbiamo guardare. Poi c'è l'esercito che ci difende. L'esercito siamo noi. Che cerchiamo di difendere la popolazione. Grazie. Grazie.